Andrei già dentro, non aspettate nemmeno un Ok Ok, adesso entriamo Ok Ok Ci sono andato sopra Sto finito Mi calvato Eh, aspettato appena scoppiava Grande upsyche, grande giocata Ci ha salvato il silico Mi avete più scelto la diga d'oss Il mio Reinhardt d'oss Merci debolissima Reinhardt Che ci uscite Reinhardt 3 nel punto, 3 nel punto però Ok Ok, bravo Buona, adesso andiamo Ok, ottimo Cosa? Ah No Ha preso nezzi comunque Attenziamo L'avete tracer dietro ragazzi Andiamo su Sir Mecha Non ho capito che scoppiava la prova Grazie, grazie, grazie Grazie Eh, stai sempre un po' plus Balsaria Soldato Morto Arriva a simmetra Crese Aiuto Aiuto, 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 aiuto Aiuto, 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 aiuto Uff, 3,7 polizia Nel punto Come ho fatto uno a sciopparmi, Sir Mecha, scusate? Potremmo fistici Alla breccia mia Alla breccia mia Alla breccia mia Alla breccia mia Alla breccia di un altro assaggio 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 Si è fatta ammazzare Non ha la resta Ah, no, no No, non ce l'ha ancora Io qua si l'ha oltre, non cambia Ok, raga, bisogna andare Non più male Ok, raga, cambia Iniziamo, ok Paramessi va bene Eh, vado zaro Tu dai rologo, dai Insieme, siamo più forti Ah, no, cazzo Ok, c'è, vero Ho sbagliato Scusate Hanno un generatore Dai, non ci credo Non mi ha curato Adesso siamo tutti soldati Però è ucciso su me Eh, lo so Ma non percorato quell'idiota Lo stavo fare Per planca bene Dietro di voi c'è Tracer Attenti Questa 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 E' one shot Dai, cazzo Raga, ho bisogno di una mano Era del trasporto Simmetro è morta Comunque Entrate dentro Merti non mi rende Racer dietro Racer dietro Questa Stasso Questa 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 Perché cazzo ha switchato, io non l'ho capito perché cazzo ha switchato Perché cazzo ha switchato Zenyatta Io caro Uccidetemi Non è piaciuto l'avete, è vero? No Non è più rana Ok Se flanchi su le piattaformi ero campi e vai dietro, voglio solo buttarti e sto muovi Ah però fanno giro adesso, fanno giro Ragazzi non si può passare da qua, dobbiamo passare top, top top No, da destra Ma di Wilson ti viene a prendere Eh non ce la faccio Eh non ho pure, nessuno mi cura, messi la roba Ma stai arrosando, mei Eh non so, abbiamo già un solo push ma Non so più ragazzi Andiamo in alto a sinistra a tutti 40 secondi e ce la facciamo dai stupendo di merda rotto il cazzo sediamento ma perché è messo non viene così anche qua ma cosa cosa è successo no è perché mi ha salvato io sono amico il lavadrazer ma vai via la funcissima ma qua è morto di nuovo la resta ovviamente e cioè avete un po' la mamma puttana comunque è morta perchè come si dice Winston ha messo la bolla sul metra, era lì davanti e io non ho potuto far nulla per salvarlo selezioni ahhh ma come fai assieme in mezzo bro? vai e su cioè doveva stare con Gabri doveva stare porca puttana eh porca puttana volete simmetria o ana? ah non lo so avevano 3 asset? no non avevano 3 asset però io vorrei andare nel secondo punto vado Torbjorn adesso siamo tutti i soldati anche no ci vado po' vado Torbjorn vado Torbjorn vai in meta però ci serve soldato però eh vai Torbjorn se poi vai i soldati e lo provi così ti dato che abbiamo cercato di poter annullarla con la persona di me non bisogno di armatura grazie poi raccattava metti fatti un attimo grabare apri ma dove sta passando? oh mio dio tantissimo andava a sinistra oh ma che cazzo vola non mi segue vabbè vabbè corre 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 si non vola ma però se stanno Winston è tutto inutile lo sapete? si beh non ci noia c'è uno Anzo? lui c'è Tracer hanno visto hanno visto Tracer Tracer son vola 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 amitayling la Tracer veramente non mi fa vivere eh hai commesso il pulle avanto per poi ho bisogno di cure tante cure eh esatto lo so lo so è proprio che chiarivo il raggio che era al massimo potere la massia potenza c'era davanti a me che è quello che può facciare di facilmente è quello che l'ha cominciato a fare adesso ha allevato 3 ah no, ha lo stesso nome sti feroci qualcuno è frencato da dietro qualcuno è frencato da dietro avevo messo una cosa per vedere se c'era qualcuno ok eh, turno, adesso compara si, non lo sento, turno oh, Genji addosso ho l'uso addosso mi sei, ma mi sei, mi metti qui le vargo eh mettilo un glitchato, mi raccomando no, non fai ah no andiamo preso ma che cazzo taggiantico sopra oh, grazie vabbè, io prendo il teleparco devo arrivare prima possibile grande, guarda cosa vuoi fare? armatura felice a prenderla ho finito i altanni sono addezzo a farla messa stanno scappando ho messo la torretta sotto così non possono distruggere no, io mi ho scoperto mi sono state le torrette farà messi mi vengono da voi no, madonna mezzo, farà morto mi abbuffate se non avrete il volo non ti fa buttare i soldi a tempo no, no grande, la torretta la morte non può fermare gli eroi io ci sono grazie oh mio dio la torretta allora è se nostra? ce l'abbiamo, vero? non ce ne vai ok, l'hanno preso non ce la facciamo? c'è la torretta, c'è la torretta se ci stai con un muro forse sì non dovremmo che non so non dovremmo che non so non dovremmo che non so sì, sì, è andata andiamo, ok? lo sapete che io ho ucciso sì come ti chiamo la tracer con le torrette che la messa a casa la torretta la torretta oh mio dio, la torretta posso andare a... ah, 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 ah sì, c'è anche una mia tessinella si fa le pugnette qua le pugnette, sì, le pugnette solo un tic hanno preso, eh posso parlare oggi? devo potenziare la prima parte la pelletta la progetta ti metterò a noi vai a andare sul punto mancano dieci secondi non ce l'abbiamo quasi male è notta la prossima rivediamola, no non entro, no? ma sono veramente così tanto la torretta sì si parola solo la torretta bravo, di su ci se ne varco la torretta la torretta non gli spingi la torretta ah è per quanto tutti la torretta ma io ho detto che il punto per la torre che cosa torretta è il tuo rettile di simmetra si si madonna che combo che combo che combo eravamo cancer oggi e a fare schifo ma tolgerlo in questa situazione è devastante azione mia no dai ho fatto una quintupla porca puta mi ha detto e beh è stata bella mi sei saltato da là a casa a casa no la devo dare a a un video forca ma 70% kill participation è stato bellissimo alla fine c'era trese che stava impazzendo gli è venuta a buttare la ultra sulla torretta la distrutta gliel'ho rimessa l'ho sparato in testa l'ho uccisa e non la penso che ha tirato il gesto e che ha rotto il televisivo perché ma ma oddio ma ci si fa ci si fa che se lo ha sorrita tutto non le ci ha